va bene va bene va bene va bene va bene va bene allora dunque apro parentesi bentornato daniele un saluto anche ad alessio grande toro oggi ha vinto contro la roma quindi diciamo che per la salvezza insomma a buon punto avevo già fatto il video precedente contro il bologna quindi bentornato bentornato forza toro grande toro grande toro oggi una vittoria importantissima quello a roma poi comunque e allora invece l'inter ragazzi va bene va bene un pareggio va bene possiamo accontentarci anche se sarebbe stato bello vincerla anzi non averla persa un gol di merda un gol di merda ci hanno fatto perché era un cross innocuo e devraire davanti ad andano invece non è riuscita a fermare il pallone e vabbè dici poi il palo la traversa dici porca di quello però sta a vedere che stiamo per pagare la vittoria dall'andata in realtà poi per fortuna ericsson ha fatto un gran gol da fuori aria e praticamente secondo tempo solo ericsson tirato sostanzialmente e poi un'occasione del napoli nel secondo tempo anzi due perché politano stava per farci stava per purgarci col gol dell'ex è già lì comunque in linea di massima una partita un pareggio giustissimo giustissimo avesse vinto uno avesse vinto l'altra sarebbe stato esagerato però il pareggio va bene adesso mina magari sarà contento che abbia guagnato due punti su di noi ma comunque io sono contento che abbia guagnato un punto dalla juve quindi già sembra niente ma un punto è tanto è tanto va bene dopo undici vittori di fila fino a un pareggio me lo tengo stretto infatti alla fine contro non ha voluto rischiare anche se sinceramente io brosovi ce l'avevi tolto un certo punto ma che poi ha rotto i coglioni non può giocare sempre 90 minuti sto qua ma che palle o ma che palle micchia fa ma fa delle cazzate poi fai a un certo punto non è uscito a controllare bene il pallone poi l'ha lanciato la palla dall'altra parte tutta sballata ma cazzo metti i sensi mi non so e su gaiardini ok caspita ai cinque cambi cinque palle perché non sfruttiamo mai di cinque cambi potrà mettere sensi almeno gestiva un po il gioco e poi vabbè ci siamo a contentare meglio non rischiarle anche al napoli a un certo punto in ultimi cinque minuti più o meno si è fermato diciamo che meglio che perderla poi alla fine anche per approfittare con la sconfitta della juve di oggi però la linea di massima ragazzi noi non possiamo soltamente lamentarci l'inter ha fatto una buona partita un po di rimpianti su quell'azione lì di darmian che poteva tirare nel primo tempo un po di rimpianti anche su altre occasioni la lotta colibali lukaku diciamo è stata abbastanza dura abbastanza dura alla fine si è fatto soltanto a morire colibali una volta quindi va bene non capisco poi lo scherzo di manolas alla fine di regolazione di akimi che anche lì poteva tirare a kim perché non ha tirato invece di darle in mezzo sei lì tira cioè abbiamo dei tersini timidi comunque vabbè mando le ciance vabbè ragazzi mancano sette partite sette partite se dobbiamo fare minimo 15 punti vabbè per vincere sto benedetto campionato insomma ci siamo vicini speravo di vincere oggi ovviamente per chiudere il prima possibile il discorso ma vabbè poi mercoledì c'è il turno in fa semanale abbiamo avremo lo spezia un'altra trasferta dura perché si deve salvare quindi diciamo che lì possiamo già rischiare un po di più di insomma piuttosto che a contattarci di un pareggio è un pareggio che comunque va bene cioè non possiamo lamentarci potevamo far di più abbiamo rischiato di perdere però fatto sta che un pareggio a napoli è più che è più che sufficiente per quello che appunto c'è tutta vittoria che abbiamo fatto quella col toro agguantata proprio quasi negli ultimi minuti le vittorie 1 a 0 col cagliere vittorio 1 a 0 l'abito 21 la tutti tutti i risultati stretti partite che potevamo anche pareggiare e abbiamo pareggiato stasera con napoli un napoli comunque non 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 scarso assolutamente una buona squadra quindi ci sta ci sta napoli della champions league insomma sarà una bella lotta lì tra il terzo e quarto posto quindi in mina può sorridere dovete ringraziarci milanisti perché alla fine abbiamo fatto un po fermare il napoli siamo fermati anche comunque va bene così va bene così mia con c'è contentiamo c'è contentiamo dalla fine non possiamo dire nulla e quindi prossima con lo spezia per l'appunto allora io ho fatto un video prima gameplay con resident evil la demo purtroppo c'è un libido di mezz'ora non ho giocato tutto invito a guardarlo se avete voglia di farlo se vi piace il genere di videogioco poi ho fatto il video anche oggi mi invito a guardare questo ancora non avete visto poi ci sono tanti quei stupidi che lì non posso non sto neanche a dedicarci quei 30 secondi a certa gente stupida fa dei commenti l'ho bannato ci spavano un tacco di stronzata era uno giuventino che sicuramente un quindicenne che sparava stronzata infatti tante volte è per quello che non faccio video sulla juve o altre squadre perché poi capita sempre con il cretino forse quindicenne che scrive ma vabbè fatto che bannarlo e via via sto anche a prenderci tempo comunque non ci vediamo quando ci vediamo nomi e mercoledì giochiamo quindi domani martedì sicuramente game by prediction dei b4 spezia inter va bene un punto minimo che dovevamo fare dispiace un po per il record delle 18 vittorie consecutive ma lì va detto chi se ne frega l'importante è ottenere l'obiettivo finale il risultato minimo è quello che dovevamo ottenere l'avevamo ottenuto quindi va bene un pareggio napoli poi adesso con lo spezia mi piacerebbe ottenere tre punti va bene stasera però mercoledì chi mi ha deluso di più mi sta dubbendo ancora un po è akimi akimi poco brillante barella così così brosovic deve fare un po di panchina lautaro ha giocato bene bello stato bene abbiamo rischiato un po in difesa c'è stato un certo punto che devrai lì ha fatto quel quasi rigore poteva essere però gli ha preso pallone su zelinski mi sembra che poi zelinski tirando gli ha preso la gamba anzi che la palla quindi non era mai rigore quello quindi scrina una volta indeciso però è riuscito a recuperare diciamo tutti sulla sufficienza tranne alcuni diciamo insomma per gli altri per gli ci ha fatto niente se non c'è spure non hanno cambiato la partita anzi potremmo farse forse un po meglio gestire un po meno situazione prove alla fine contentiamoci così uno pari quindi noi ci vediamo allora in settimana con per il turno fra settimana l'ultimo stagionale e poi statemi bene che te va il canale mi raccomando sempre forza inter ciao